Non ha la più pallida idea di quanto possa valere questa paroletta. E ora che facciamo? Dobbiamo assolutamente raggiungere. In futuro questo esperimento potrebbe essere tentato anche sul... È difficile trovare parole giuste. Non vorrò che in asta serata è meravigliosa. Sono così felice. Volevo solo dire che... E basta! Ma non si capisce niente! Ma che tra le re? È inutile che ti scaldi, Lillo. Ormai si usa così nei trailer. Ma non si capisce una mazza! Comunque un film divertentissimo che parla di... E porca zozza! Il un film di Soprini... Un film di Soprini... Il film di Soprini...